Bentornati a Radio Puggino NER, il podcast di un cantautore. Anche stasera ci ritroviamo per commentare insieme e per raccontarvi se avete perso l'intervista, la puntata innanzitutto di Lili Gruber in diretta sulla 7. Oppure se siete qui semplicemente per commentarla insieme a noi attraverso i commenti sotto il nostro podcast, come sempre potrete rivedere la puntata quando vorrete i streaming sul sito Lasette e negli altri siti dedicati, ma ora qui delle copiose anticipazioni per chi se la fosse persa e degli spunti di riflessione per chi vuole aprire poi un dibattito insieme a me nei commenti del nostro episodio. Bene, l'intervista di questa sera del 26 giugno 2024 nel programma televisivo 8 e mezzo condotto da Lili Gruber ha visto come ospite Pierluigi Bersani. La conversazione è stata caratterizzata da un tono deciso e da una chiara focalizzazione sui temi politici attuali con una particolare attenzione all'imminente Consiglio europeo e alla posizione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lili Gruber ha aperto l'intervista con un'introduzione diretta ed incisiva evidenziando subito l'atteggiamento combattivo della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la sua recente apparizione in Parlamento. Gruber ha sottolineato che la Meloni si è mostrata particolarmente irritata in vista del prossimo Consiglio europeo, dove è stata esclusa dalla trattativa per le figure apicali dell'Unione europea. Questo contesto ha fornito lo spunto per una domanda pungente a Pierluigi Bersani, mettendo in risalto la dichiarazione di Giorgia Meloni che affermava di non voler mai chiedere aiuto a Bruxelles con il cappello in mano, a differenza dei governi precedenti. Bersani ha risposto, come nel suo stile, con una nota di sarcasmo, osservando che se la Meloni lascia il cappello a casa, almeno questa è una certezza. Questa risposta non solo riflette la sua visione critica del modo in cui la Meloni ha presentato la sua posizione, ma anche una sottile allusione alla retorica populista spesso utilizzata dalla Presidente del Consiglio. Bersani ha poi predetto che Giorgia Meloni tornerà al Consiglio europeo con un premio di consolazione. Ha spiegato che nonostante la Meloni dovrà giustificare le sue richieste non in nome del successo delle destre europee, ma piuttosto basandosi sul ruolo dell'Italia come paese fondatore e importante attore nella costruzione dell'Europa. Questa osservazione evidenzia una contraddizione nella posizione di Meloni e del suo partito, tradizionalmente euroscettici, costretti ora a fare appello agli stessi argomenti usati da chi in passato andava a Bruxelles con il cappello in mano. Bersani ha sottolineato che più di un semplice riconoscimento formale nella Commissione europea, Meloni non potrà ottenere molto altro, date le limitazioni imposte dalle sue stesse politiche e alleanze. Lili Gruber ha poi portato la conversazione sulle recenti dichiarazioni di Matteo Renzi, che al Senato aveva commentato che la Meloni era stata esclusa dalla stanza dei Bottoni non per fare un torto all'Italia, ma per l'opposizione della sua linea politica. Renzi aveva affermato che la Meloni si trovava in una posizione ambigua a metà tra grande statista e piccola fiammiferaia e che era stata esclusa dai suoi stessi alleati politici, in particolare dai popolari amici di Tagliani. Bersani ha concordato che la Meloni stava pagando per le sue contraddizioni di fondo, piuttosto che per semplici ambiguità tattiche. Ha evidenziato come non si possa chiedere maggiori fondi all'Unione europea mentre si stringono alleanze, con leader come il primo ministro olandese, che apertamente si oppone a dare soldi agli italiani. Questa doppiezza è stata evidenziata ulteriormente nella discussione sulla gestione degli immigrati irregolari, dove Giorgia Meloni aveva richiesto una distribuzione pro quota, ma aveva mostrato comprensione verso Orban quando quest'ultimo aveva rifiutato tali misure. La discussione si è poi spostata sulle critiche mosse da Elly Schlein, leader del Partito Democratico, che aveva attaccato duramente la Meloni in Parlamento e la sua linea politica. La Gruber ha ricordato le recenti elezioni amministrative vinte dal centro-sinistra, chiedendo a Bersani se questo segnala l'inizio di una possibile alternativa al governo di destra. Bersani ha interpretato le elezioni come un segnale di risveglio per le forze alternative, una prima inclinatura nella narrazione dell'estrema destra. Ha sottolineato che il centro-sinistra può vincere solo se unito e generoso nelle scelte dei candidati, puntando su temi fondamentali come la solidarietà, l'uguaglianza, l'inclusione e la coesione. Ha indicato che queste elezioni rappresentano un buon viatico, ma ha avvertito che è necessario osare di più per costruire un'alternativa credibile al governo attuale. La conversazione si è poi approfondita sul tema dell'autonomia differenziata. Bersani ha affermato che, sebbene non sia palesemente anticostituzionale, questa rischia di trasformare l'Italia in un arlecchino di competenze regionali frammentate. Ha specificato che l'autonomia differenziata dovrebbe essere basata su ragioni obiettive e funzionali, come competenze specifiche per regioni con esigenze particolari, piuttosto che permettere ad ogni regione di scegliere arbitrariamente tra 23 materie diverse. Fa l'esempio della competenza marittima per una regione come l'Umbria, che non è circondata dal mare, per cui non ne ha bisogno, però potrebbe comunque scegliere arbitrariamente questa materia. Bersani ha concluso che, sebbene ci siano tre anni di tempo prima delle prossime elezioni, è fondamentale per il centro-sinistra prepararsi politicamente per costruire un percorso alternativo credibile. Ha ribadito che il centro-sinistra non deve limitarsi alla propaganda avversa, ma deve fare gesti politici concreti e attrezzarsi per le sfide prossime, le sfide future, come le prossime elezioni regionali. L'intervista a Pierluigi Bersani da parte di Lili Gruber ha fornito una panoramica chiara delle posizioni critiche di Bersani nei confronti di Giorgia Meloni e del governo di destra, evidenziando le sfide e le opportunità per il centro-sinistra in vista delle future competizioni elettorali. Bersani ha sottolineato l'importanza di un'unità e di una strategia basata sui principi di solidarietà, uguaglianza e inclusione, suggerendo che questi temi possono essere la chiave per costruire un'alternativa credibile al governo attuale. Aspetto i vostri commenti, voglio sapere cosa ne pensate voi e apriamo un dibattito sotto il nostro podcast. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Andate a rivedere, se ve la siete persa, la puntata di Lili Gruber di 8 e mezzo di oggi, 26 giugno 2024. In streaming sul sito La Sette, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo episodio di Radio Puggino NER. Grazie.